salve ragazzi un saluto a tutti da parte dell'intero staff di vaghitaly oggi con questa bellissima cupra formentor nuovissima uscita dal concessionario cinque giorni fa è una 2.190 cavalli benzina quattro ruote motrici con questo colore bianco candy così si chiama il colore macchina bellissima che abbiamo tra l'altro anche provato e i 190 cavalli con la trazione integrale si sentono molto molto bene bellissima auto vi faccio una panoramica per poi andare a vedere tutte le attivazioni che abbiamo fatto che sono molte che sono molte su una macchina già molto dotata una delle prime cose che vi andiamo a far a far vedere riguarda l'attivazione dell'antifurto che su un'auto così bella non poteva mancare infatti adesso andiamo a chiudere la macchina e volutamente ho lasciato i cristalli aperti proprio per simulare un'effrazione e quindi l'apertura diciamo dello sportello dalla maniglia interna così come fanno solitamente i ladri eccoci andiamo ad aprire la porta dalla maniglia interna e come sentite è partito l'antifurto e speriamo che il ladro di turno se la sia data a gambe levate e la nostra macchina ci rimanga lì dove l'amo parcheggiata un'altra attivazione che abbiamo effettuato su questa vettura riguarda gli specchi retrovisori infatti come vedete li ho lasciati aperti volutamente perché abbiamo attivato la chiusura degli specchi tenendo premuto il tasto del telecomando ovviamente anche i cristalli si vanno a chiudere così proprio per salvaguardare la vita dell'unità di ripiegamento dello specchio questa è un attivazione che si può gestire all'interno del menù se la vogliamo mettere come prima che ad ogni chiusura si chiude lo specchio e così ad ogni apertura la rimettiamo in posizione standard adesso la macchina è chiusa e vi facciamo vedere un'altra attivazione molto molto comoda l'apertura in avvicinamento io quindi ho le chiavi me le metto in tasca mi metto le chiavi in tasca andiamo ci avviciniamo e come avete sentito il bip e le frecce e lo specchio che si aperta la macchina si è aperta stessa cosa in chiusura se ci allontaniamo quindi ci allontaniamo e come avete sentito si la chiusura centralizzata si è attivata e anche le frecce sugli specchi e sul sui fari quindi chiusura in allontanamento ed apertura della macchina in avvicinamento con la funzione full kill se a questo punto il full è veramente full scusate diciamo il gioco di parole adesso rientriamo si è nuovamente riaperta in avvicinamento e andiamo a vedere all'interno della macchina quello che abbiamo fatto facendovi vedere anche questi bellissimi sedili ultrasportivi anche con la regolazione elettrica vi faccio una panoramica la macchina è bellissima anche all'interno e adesso possiamo salire a vedere che cosa abbiamo fatto dentro eccoci dentro accendiamo il quadro e accendiamo questo fantastico motore allora se andiamo subito sul sull'infotainment andiamo a vedere nelle impostazioni del veicolo quello che abbiamo fatto allora innanzitutto nel menù luci diurne abbiamo il menù degli abbaglianti automatici che prima non era presente quindi se non vogliamo utilizzare gli abbaglianti automatici basta che deflagghiamo questo questo menù e non abbiamo gli abbaglianti automatici altra attivazione menù luci diurne in questa situazione abbiamo il menù privacy che cosa significa che anche a motore acceso o a quadro acceso le luci fuori le luci dei fari sono completamente spente proprio per avere privacy andando avanti se invece andiamo nel menù degli specchi la chiusura bloccaggio come vi ho fatto vedere precedentemente avendo deflaggato questo menù andiamo a chiudere gli specchi solo manualmente diversamente la rimettiamo in posizione standard e quindi si chiudono ad ogni chiusura si aprono naturalmente ad ogni apertura nella chiusura centralizzata cosa molto molto importante avendo questa macchina già di serie il keyless abbiamo potuto attivare il full keyless quindi ecco qua abbiamo il bloccaggio delle porte in quando si esce dal veicolo e lo sbloccaggio quando ci quando ci si avvicina avendo anche la possibilità di impostare una distanza di riconoscimento che noi abbiamo messo in piccola quindi appena usciamo si chiude e nell'avvicinarsi appena siamo vicini alla macchina si apre naturalmente questo è un menù che si può tranquillamente togliere ed avere il full keyless nel keyless normale quindi bisogna mettere il ditino sul sensore per chiudere e mettere la mano ne diciamo all'interno della maniglia per aprire la portiera oppure con il telecomando naturalmente ma siccome abbiamo attivato questa fantastica opzione andiamo ad attivare il tutto ed utilizziamo il full keyless andiamo avanti e andiamo a vedere tutto ciò che abbiamo fatto all'interno dei sistemi di assistenza alla guida allora questa auto non ha travel assist e lo vedete da questo da questo tastino perché se avesse avuto il travel assist il disegno qui sarebbe stato diverso ma nessun problema per questo perché comunque abbiamo attivato il travel assist l'emergency break assist quindi centraggio di carreggiata che ci toglie quel fastidiotissimo ping pong e la frenata emergenza in caso di malore del conducente poi sull'ain assist abbiamo attivato anche la memorizzazione che cosa significa adesso io ho tolto il l'ain assist se io vado a spegnere il motore apriamo anche la porta di default prima del nostro intervento il l'ain assist andava sempre in on attivo con la nostra memorizzazione il l'ain assist è rimasto disattivo quindi noi adesso lo andiamo attivare proprio per utilizzare tutti i sistemi di assistenza alla guida ed avere ovviamente anche il travel assist e l'emergency break assist nonché il centraggio di carreggiata che vi ricordo essere importantissimo perché è proprio il travel assist col centraggio di carreggiata che ci elimina quel fastidiosissimo ping pong e che la macchina fa nel mantenimento di carreggiata quindi lo sbattimento a destra e sinistra sulle carreggiate che lo abbiamo tolto eliminato completamente tramite l'attivazione del travel assist altra attivazione molto molto importante riguarda la parte video perché il proprietario della vettura ha dei bambini piccoli e ci ha chiesto lo sblocco del video movimento infatti noi adesso andiamo a dare gas come vedete il video continua ad essere riprodotto naturalmente invitiamo sempre tutti quanti ad utilizzare questa funzione solo esclusivamente per i vostri passeggeri per intrattenere i vostri ospiti a bordo andando a vedere invece il virtual cockpit abbiamo attivato l'off road quindi l'angolo di sterzata come vedete io ci sto girando lo sterzo c'è l'angolo di sterzata della gomma abbiamo attivato sempre nel menu laterale a sinistra la quantità rabucco carburante 5 sono i litri che mancano per fare il pieno di benzina vi ricordo questa essere una 2000 turbo benzina da 190 cavalli poi vi facciamo vedere anche le fantastiche view di questo bellissimo virtual cockpit cubra con tutti i quadranti anche la navigazione per poi mettere il quadrante contaggiri centrale che penso sia il più bello in assoluto adesso spegniamo la macchina e usciamo dal veicolo vi facciamo un'ulteriore panoramica di questa bellissima cubra formentor vi ricordo essere uscita dal concessionario da cinque giorni circa ed è in pienissima garanzia vi dico questo perché è una domanda che ci fate sempre ma ragazzi se venite da noi di vachita il problema della garanzia non l'avete ragazzi se vi è piaciuto il video date like mi raccomando iscrivetevi al canale abilitate la campanellina così non vi perderete i nostri prossimi video e tutto lo staff di vach italy vi saluta con questa bellissima cubra formentor salve a tutti abilitate la campanellina così non vi perderete i nostri prossimi video a tutti i nostri prossimi video